Ciao ragazzi, adesso vi spiego una coreografia così potete farla a casa e allenarvi anche se non ci possiamo vedere. Allora, parto con le gambe divaricate. Apro 1, 2, 3, 4, incrocio la gamba destra con la punta. 5, 6, 7, 8, calcio con la gamba sinistra. 1, 2, 3, 4, apro il braccio sinistro, 5, 6, 7, 8, cado 1, 2, 3, 4, passo indietro con la destra, 5, 6, indentro la spalla, 7, 8, apro 1, 2, schiaccio 3, 4, 5, 6, 7 e all'8 inizio a correre con la destra, 8. 1, passo 2, salto 3, 4, le braccia ruotano 5, 6, 7, apro 8, 1, mi abbraccio con la destra, 2, 3, 4, passo indietro con la destra, 5, giro 6, scendo 7, 8, salto 1, 2, sul braccio 3, 4, 5, 6, 7, 8, metto la mano sinistra a terra, tiro fuori la gamba sinistra, mi metto in ginocchio e srotolo. Adesso lo facciamo con la musica. 5, 6, ii, 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 i You make me wanna clap You make me wanna clap